Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Questo è un video del corso di computer base. Dal video precedente abbiamo iniziato a parlare di Internet, quindi trattiamo la navigazione Internet da principianti totali, come se non sapessimo nulla. E in quel video abbiamo visto e capito cos'è Internet. Siamo arrivati ora al punto da dover navigare, da voler navigare in Internet. Quindi ci siamo detti che per navigare in Internet io devo aprire il mio browser, devo aprire un programma presente nel mio computer che mi permette di vedere il mondo Internet e quindi visualizzare quello che c'è in quel mondo. E per fare questo sappiamo che ci sono più programmi, più browser a disposizione. E nel video precedente li abbiamo anche aperti una prima volta. Ora torniamo ad aprirli perché vogliamo iniziare attivamente a navigare, sempre da zero. Bene, apro prima di tutto il mio browser preferito, nel mio caso Google Chrome. Quindi questa è l'icona che serve ad aprire Google Chrome. Premo e vedo cosa accade. Premo, si apre il browser Internet e comincia a visualizzarmi qualcosa. In questo caso, ma sempre in generale, quando il browser si apre ti mostra qualcosa. Quel qualcosa che ti mostra lo fa perché è stato programmato per mostrarti quello. È stato programmato per partire da quella posizione. Nel mio caso specifico, Google Chrome mi mostra la pagina di Google, il motore di ricerca, e altre schede di navigazione, ovvero il sito degli amici di Maggiolina, la mia posta elettronica, il mio canale YouTube, questo Associazione Maggiolina. Torniamo sulla pagina principale, sulla prima pagina che apre, che è Google Chrome. Bene, rimpicciolisco momentaneamente questo browser e provo ad aprirne un altro. L'altro browser che preferisco è Mozilla Firefox. Premo e anche lui inizia a mostrarmi quello per cui è programmato, quello per cui è impostato. Impostazioni che facciamo noi e in un secondo momento vedremo come farle. Questo browser mi mostra solo la pagina iniziale di Google. Lo rimpicciolisco, torno ad aprire un ennesimo browser e questa volta apro sì Microsoft Edge, come nel video precedente, ma l'ultimissima versione, quella aggiornata proprio per me questa mattina. Quindi premo questo logo, questo è il nuovo logo di Microsoft Edge, nuova versione, premo e nuovamente si apre il browser. Eccolo qua. E ancora una volta mi viene mostrato ciò per cui è impostato. Quindi il browser internet mi mostra una pagina internet in particolare tra le tante, che è questa di Google, perché è stato regolato da me a questo scopo. Rimpicciolisco anche questo. Bene, ora noi inizieremo praticamente a navigare e quindi dovremo prendere come riferimento uno di questi browser e cominciare a lavorarci. C'è da dire che tutto quello che faremo con uno di questi browser è replicabile anche con gli altri. I comandi alla fine sono gli stessi. Abbiamo detto che il browser, in definitiva, è come se fosse un televisore della vita reale. Accendo il mio televisore e vedo quello che trasmettono. Anche se sono di marche diverse, sappiamo più o meno tutti utilizzare i vari televisori. In tutti c'è il volume, da alzare e abbassare, c'è la possibilità di cambiare canale e quant'altro. Poi ci sono delle impostazioni più approfondite che magari ci mettono un po' più in difficoltà ma che permettono di personalizzare ulteriormente l'esperienza visiva su quel televisore. La stessa cosa è per i browser. Quindi i browser hanno dei comandi comune. La scheda Google. Questa è una scheda. Questo browser Google Chrome mi mostra più schede. Google, Amici di Maggiolina, la posta elettronica, il canale YouTube. Questo mi mostra un'unica scheda ma c'è una scheda. C'è un più che serve ad aggiungere un'ulteriore scheda. Eccola qua, la nuova scheda. Lo stesso più lo ritrovo anche qui e anche qui serve ad aggiungere una nuova scheda. Eccola qua, la nuova scheda. E anche qui in Edge ci sono le schede. C'è il più che serve ad aggiungere la nuova scheda, eccetera, eccetera. Così come ogni scheda può essere chiusa con questa X, chiusa con questa X, chiusa con questa X e via via per tutto il resto. Quindi i browser hanno comandi comuni. Imparare ad utilizzarne uno significa grosso modo saper utilizzare anche gli altri. Altre cose comuni che ci interessano sono questi pulsanti. Eccoli qua. Servono a muoversi tra le pagine internet. Eccoli qua. Anche su Firefox. Ed eccoli qua anche su Edge. Qui manca la casetta. Tra i vari pulsanti non c'è la casetta che invece c'è sugli altri browser. Ma semplicemente perché è un'impostazione che ancora non ho fatto. Far apparire questa casetta ancora non l'ho fatto. E queste cose le faremo insieme. Magari nei video seguenti o magari nei video di approfondimento del pomeriggio. Tutti giovedì pomeriggio alle 16 c'è la versione approfondita di queste lezioni. E quindi ti invito a vedere anche quelle proprio perché abbiamo la possibilità di mostrare più cose. Ok. La cosa che mi interessa però adesso come prima cosa per navigare per cominciare a muovermi nel mondo internet è quella di riuscire a spostarmi da una pagina all'altra. Voglio andare a vedere un determinato sito internet ottenere certe informazioni piuttosto che altre. Come faccio? ho due possibilità. Al momento ne prendiamo in considerazione una e quella principale ed è questa. Questo spazio chiamata la barra degli indirizzi questo, questo e questo quindi comune a tutti i browser è lo spazio in cui io scrivo e dico al mio browser dove voglio andare. è il telecomando della mia televisione che mi permette di dirigermi su una pagina internet piuttosto che un'altra mi permette di andare a vedere il contenuto di un computer di un server internet come li chiamavamo nel video precedente piuttosto che un altro. Ok. Prendiamo quindi ad esempio un singolo browser. Quindi vado ad aprire Google Chrome che è e sarà il browser mio preferito per questo corso chiudo le altre schede perché voglio lavorare con un'unica scheda internet e concentrarmi solo su questa e in questa pagina adesso io voglio andare in un sito nuovo o meglio voglio andare in un sito specifico voglio cambiare pagina e andare altrove. Ho due possibilità dicevamo e prendiamo in considerazione la barra degli indirizzi. Io posso dire di andare in un sito il sito Associazione Maggiolina ovviamente proviamo ad andare sul nostro sito e nell'andarci potrei dirmi ma sai non so esattamente dov'è il sito Associazione Maggiolina so che c'è andiamoci ti do l'informazione e tu browser provvedi a portarmi al sito Associazione Maggiolina o comunque mi dici dove potrei andare a guardare. Quindi se io premo qui nella barra degli indirizzi faccio un click solo perché a me interessa che quando vado a scrivere sulla barra degli indirizzi ciò che c'è già scritto scompaia. Se io non faccio un click solo e quindi non faccio diventare blu queste scritte ho dei problemi. Ricominciamo da capo. Faccio click in un punto vuoto. Se faccio un click solo nella barra degli indirizzi non necessariamente sulla scritta ma in un punto qualsiasi la scritta diventa blu. Quando io scriverò qualcosa d'altro quel qualcosa sostituisce ciò che era blu. Proviamo invece a fare un doppio click. Quindi torno fuori se io ora faccio doppio click qui come vedo fare a tantissime persone che vengono ai corsi faccio doppio click e in questo caso seleziona di nuovo tutto e devo dire che la cosa mi sorprende perché in passato il doppio click mi permetteva di fare questo. Faccio un ennesimo click mi permetteva di andare a scrivere e modificare la scritta e questa era una cosa che creava un sacco di problemi. Già che ci siamo voglio provare sugli altri browser quindi Firefox doppio click in questo caso il doppio click mi ha scelto un'unica parola. Questo mette in difficoltà l'utente perché ora quando scrivo qualcosa di nuovo quello che scrivo si mescola a quello già presente. Vediamo Edge come si comporta quindi doppio click su Edge e di nuovo ho lo stesso problema mentre invece su Google Chrome doppio click seleziono comunque tutto. Questo mi interessa perché ora vado a scrivere Maggiolina dato che io non so qual è il luogo il luogo internet la pagina internet di associazione Maggiolina dov'è com'è dico senti Maggiolina nel momento in cui io scrivo Maggiolina qui sotto vedo delle altre voci che mi appaiono in conseguenza di ciò che io ho già visto in passato o comunque in conseguenza di ciò che potrebbe interessarmi di più. Il mio browser ha un'esperienza della mia navigazione internet passata e quindi cerca di aiutarmi per cui io potrei andare anche a cliccare ad esempio su Maggiolina corso di computer base che mi sembra più indicato rispetto a ciò che io cerco. Per il momento questa cosa che si chiama cronologia la ignoriamo. Noi andiamo in un sito internet digitando Maggiolina in questa posizione. Ora ci devo andare. Ho scritto Maggiolina come faccio a dire browser computer andiamo a vedere la pagina di Maggiolina premo invio il tasto per andare a capo sulla mia tastiera premo invio il computer recepisce il comando e va a mostrarmi tutto quello che ha a che fare con Maggiolina e se guardo troverò tra le varie cose anche il sito dei corsi di computer probabilmente ma non è detto perché avviene questo perché io non ho dato un'indicazione precisa non ho detto Daniele Castelletti abita a Mantova in via Roma numero 15 interno 3 per esempio e quindi non ho indicato esattamente al mio computer al mio browser dove andare a vedere gli ho detto semplicemente guarda Daniele Castelletti Maggiolina in questo caso abita a Mantova e lui è andato e ho detto ah sì a Mantova e in questo caso invece nel mondo internet di Maggiolina ci sono queste forse è questo che ti interessa ok no non è questo che mi interessa e soprattutto non ho voglia di spulciare tra tutte queste cose voglio andare esattamente sul sito Maggiolina al primo colpo quindi deve cambiare quello che io scrivo in questa posizione torno a fare un click in questa posizione diventa nuovamente tutto quanto blu scrivo esattamente dove voglio andare ovviamente devo saperlo non posso inventarmi le cose se so dove voglio andare ci vado altrimenti devo in qualche modo reperire l'informazione in questo caso voglio andare sull'indirizzo internet del sito associazione Maggiolina che è www.associazionemaggiolina.it io non l'ho scritto tutto non sono arrivato a scrivere in fondo ho scritto solo la parte bianca la parte azzurra l'ha indovinata il computer perché l'ha indovinata il computer perché ci sono già stato in passato quindi il computer mi aiuta a digitare gli indirizzi più velocemente se vede che io ci sono già andato altre volte mi permette di evitare di scrivere tutto quanto e lo fa lui se mi sta bene quello che c'è scritto premo invio sempre sulla mia tastiera il tasto per andare a capo e lui va nel sito internet di associazione Maggiolina ed eccolo qua in questo caso siamo sul sito internet associazione Maggiolina dove ti viene mostrato chi siamo cosa facciamo e quant'altro quindi la cosa importante per quando navighiamo in internet è sapere che ho due possibilità o premo qui e scrivo grosso modo quello che mi interessa e faccio quindi una ricerca cerco un sito internet una pagina internet e quindi dovrò entrare in azione e leggere e scegliere opportunamente qualcosa oppure scrivo l'indirizzo esatto e vado subito nel posto indicato proviamo ancora voglio andare sul sito amici di Maggiolina in questo caso devo scrivere www.associazionemaggiolina.it slash amici come faccio a saperlo l'ho letto in giro guardando i video ho letto le descrizioni mi è capitato di leggerlo da qualche parte me l'ha detto un amico l'ho visto nella pubblicità sul giornale quindi quando navighiamo nel mondo reale tra virgolette troveremo varie volte questi indirizzi che servono a farci capire che digitando nel browser il tale indirizzo vedo esattamente la pagina proposta nella pubblicità sul giornale ad esempio premo invio ed ecco che ora arrivo sul sito degli amici di Maggiolina e poi posso fare altre cose poi quando sono arrivato sul sito sono arrivato nella prima pagina del sito posso schiacciare in vari posti iniziare a navigare muovermi al suo interno e consultarlo ma la cosa principale per me è quella di saper andare nella prima pagina di un sito voglio andare su google la pagina che avevamo prima vado qui e digito www.google.it premo invio e arrivo sul sito internet che ho richiesto google quindi sto guardando all'interno di un server di un computer internet che contiene questa pagina non so dove sia questo computer fisicamente nel mondo so che esiste ma digitando l'indirizzo internet di quel sito ci sono arrivato e lo visualizzo l'indirizzo internet si chiama anche URL è un acronimo inglese con significato di parole inglese che non voglio approfondire in questa sede ma quando senti parlare di URL oppure di indirizzo internet significa che tu dovrai digitare un qualcosa con il www nella maggior parte dei casi con il www davanti World Wide Web grossa ragnatela mondiale approfondiremo questo nel video di approfondimento e ti permetterà di andare a vedere un determinato sito internet quindi cosa importante per andare in un sito internet o scrivo le parole che mi servono per identificare quel sito e poi leggo quello che vedo ma non è detto che io riesca ad arrivarci oppure se so esattamente l'indirizzo internet digito quello www.associazionemaggiolina.it ti porterà al nostro sito a questo punto ti invito come sempre a mettere un mi piace a questo video se ti è piaciuto a commentarlo con esperienze o domande ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella in questo modo sarai quindi avvisato tutte le volte che uscirà un nostro video e ora hai anche la possibilità di abbonarti al nostro canale ed accedere ad un'area riservata agli abbonati in cui ci sono ancora più video a disposizione ci vediamo presto ciao